Beh, penso alla Diana Rossa di mio padre, penso alle cassette di Dalla, di De Gregori, ma se penso al 1970 penso subito allo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, penso a Berlinguer che diventa segretario del PC, penso a Salvador Allende e purtroppo al colpo di Stato in Cine. Però penso al meglio dell'avanzamento delle lotte sociali e civili in Italia, penso ovviamente al divorzio, all'aborto e a tutto quello che è stata una grandissima stagione, dalla musica alla politica, di rinnovamento.